C'è stata partita nel primo set dove avete dimostrato però di potervela giocare alla pari, poi il buio. Ci sono state due partite, fino al 22-20 una partita del primo set e poi da lì fino ad adesso un'altra partita. Dispiace, in questo momento la prima cosa che voglio dire è che quando si gioca una partita del genere è la responsabilità di una mancata reazione mia perché non sono riuscito oggi a dare quel qualcosa in più alla squadra soprattutto in un momento di nervosismo dovuto anche e soprattutto a meriti di Nono Dinamo Mosca che ha fatto della battuta l'arma principale perché il primo set abbiamo dimostrato di avere un cambio palla superiore a loro nettamente e non siamo stati aggressivi in battuta. Io avevo cercato di impostare la partita chiaramente su un servizio che normalmente in Champions ha fruttato molto. Siamo stati ordinati a muro soprattutto nella prima frazione, molto ordinati. Poi dopo ci siamo nervositi, sì abbiamo perso le nostre sicurezze perché vedere una ricezione così soprattutto deficitaria ma sulle situazioni individuali è raro e quando dico la responsabilità in questo momento me la prendo è per il semplice fatto che noi abbiamo delle certezze tecniche e non possiamo permetterci di perderle. Stiamo acquisendo quella sicurezza in più che ci permette di uscirne anche dalla difficoltà però oggi non ci siamo riusciti quindi di questo mi rammarico perché comunque sapevamo di affrontare una super squadra e per affrontare questa squadra qua non bisogna mai perdere le proprie sicurezze e bisogna spingere non lasciandosi mai abbattere da una situazione come può essere una palla sopra il muro, due o tre battute che veramente sono state micidiali però non è quello che ti porta a perdere un set a 12 o a 13 quindi mi dispiace perché le ragazze hanno fatto un percorso mostruoso per arrivare fino a qua e perderla in questo modo fa male e soprattutto sabato ci giochiamo una partita molto importante quindi dobbiamo essere bravi a non subire questa partita sotto il punto di vista mentale perché sarebbe un errore madornale soprattutto in questo periodo dove abbiamo faticato tanto ci siamo tolti delle belle soddisfazioni e rischia di essere una brutta batosta nonostante di là ripeto c'era una squadra che avete visto anche voi con i vostri occhi la qualità fisica e tecnica che ha quindi dobbiamo resettare e per la partita di ritorno ci penseremo quando è il momento di aspettare